Amici buongiorno, ecco siamo in diretta da Vallecorsa, vi parla Mirabella Massimo, docente ed esperto di pertica, eccola qua. Che cos'è la pertica? È un pezzo di carpano lavorato e sportecato in modo da effettuare la coltura dell'olivo. Già da piccoli impariamo i regalzini, facci vedere piano piano come si fa, piano piano, piano piano, guarda. Sono tre giorni e guarda come va morbido il ragazzino, visto? Ok, ok. Ieri anche sono stato a fare una dimostrazione a Morolo ed avevano una macchinetta elettrica che dopo due o tre ore è andata buttata. Ricordatevi, con la pertica puoi cogliere fino alla fine, no pertica, no parti.